Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sperando di farvi cosa gradita avevo in mente una sorta di aggiornamento in tempo reale riguardo a questa forma virulenta che è il coronavirus che tanto sta preoccupando il mondo e noi in Italia dato che siamo il terzo paese al mondo appunto per numero di contagi. Ma andiamo più nel dettaglio partendo dallo spiegare di cosa si tratta e come è nata questa forma virulenta. Quest'epidemia di coronavirus per chi non lo sapesse è scoppiata in Cina alla fine del 2019 e da lì si è diffusa in ben 28 stati. L'Italia è il terzo paese al mondo per numero di contagi dopo la Cina e la Corea del Sud. In base all'ultimo bollettino sono ben 219 i casi accertati nel nostro paese. Cinque persone che avevano contratto il virus sono purtroppo morte e misure attivate dalle attorità locali per contenere l'epidemia coinvolgono oltre 50.000 persone. I comuni in quarantena sono 11. In Lombardia è in vigore un provvedimento che prevede tra le altre cose la chiusura delle scuole. Ma andiamo in ordine cronologico ad elencare le notizie e le novità accadute in questa giornata odierna. Ebbene, alle ore 8 di questa mattina ci è stata la Commissione dell'Unione Europea che si espressa in questo modo. Stiamo seguendo da vicino la situazione in Italia e lodiamo le autorità italiane per la loro azione rapida ed efficiente. La Commissione dell'Unione Europea è pronta a fornire supporto. Scrive su Twitter il Commissario Europeo per la Salute e la Sicurezza Alimentare. La Commissione Europea ha intanto stanziato 230 milioni di euro per aiutare la lotta globale contro la diffusione del coronavirus. Sempre oggi, alle ore 8 e 15, è morto a Bergamo un 84enne positivo al coronavirus. Stanotte è morto un uomo di 84 anni che era ricoverato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Lo ha detto l'assessore di Welfa della regione Lombardia, Giulio Gallera. L'uomo era residente a Villa di Serio ed aveva altre patologie, come ha precisato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, su Radio Rai 1. Si tratta della quarta persona positiva al coronavirus morta in Italia, la terza in Lombardia. Ore 9 e 15 della giornata odierna, la Commissione OMS in Italia, in accordo con le autorità italiane, una missione congiunta dell'OMS e dell'EDTC, partirà domani per l'Italia per valutare la situazione sul terreno. Lo ha annunciato il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare durante un punto stampa a Bruxelles. Mentre alle ore 10 sempre di oggi accade che Francia e Svizzera non chiudono le frontiere con l'Italia. Il Ministero dei Trasporti Francesi ritiene che il blocco delle frontiere tra Italia e Francia non sia indispensabile. Lo ha detto il sottosegretario ai trasporti francesi. Anche la Svizzera segue la stessa linea. Non ci saranno limitazioni per le frontiere, ha dichiarato. Dell'Ufficio Federale di Sanità pubblica Elvetico. La Confederazione, ha spiegato, non ha introdotto e non intende introdurre a breve alcun provvedimento nei confronti della libera circolazione delle persone alla frontiera con gli stati dove si sono verificati i contagi. Mentre alle ore 10.40 di oggi un aereo proveniente da Roma ha bloccato alle Maurizius. I passeggeri di un volo all'Italia partito da Roma sono stati fermati dopo l'atterraggio nell'aeroporto di Maurizius nell'oceano indiano. Le autorità locali hanno deciso che l'ingresso nel paese sarà possibile solo se i passeggeri accettano di fare un periodo di quarantena in due ospedali della capitale. L'alternativa per loro è rientrare subito in Italia. Ore 11.00 cinema incassi a picco per paura del contagio. La paura tiene gli spettatori lontani dalle sale cinematografiche. Il bottiglino segna 44% rispetto a sette giorni fa, meno 29% rispetto alla stessa settimana di un anno fa. Mentre alle ore 11.10 di oggi è stata trovata la possibile connessione tra i casi veneti e quelli lombardi. Un agricoltore di Albettone, provincia di Vicenza, frequentatore del bar di Vaux, era stato a Codogno e in altri centri dell'Odigiano, focolaio del virus in Lombardia. Potrebbe essere lui l'anello di congiunzione tra i casi di coronavirus lombardi e quelli veneti, ma, preciso del capo della protezione civile, non ci sono ancora conferme in merito. Si tratta quindi di un'ipotesi da valutare, mentre alle ore 12.00 di oggi c'è stata la quinta vittima, un 88.00 del Lodigiano. La quinta persona positiva al coronavirus a perdere la vita è un uomo di 88 anni, di Caselle Landi. Lo ha reso noto il capo della protezione civile, Angelo Borrelli. Per il movimento non si sa se l'uomo avesse patologie, pregresse oppure no. Mentre alle ore 12.20 di oggi, un bus proveniente dall'Italia è bloccato a Lione. Intorno alle 7.00 di questa mattina, un autobus della compagnia FixiBus, proveniente da Milano, è stato bloccato a Lione, nel sud della Francia. Lo riportano i media locali, spiegando che lo stop del mezzo è scattato dopo che una passeggera ha chiamato la polizia, allarmata dalla forte anomala tosse dell'autista. Tutti i passeggeri sono confinanti fino ad un nuovo ordine, riferisce l'Agenzia regionale di salute. Il giornale locale, Leon Mag, riferisce che l'autista e un passeggero sono stati caricati in ambulanza e portati via. Sarebbero stati ricoverati in ospedale per effettuare le analisi. Bene, che dire. Purtroppo il numero di vittime del coronavirus in Italia è salita a 5, mentre i contagiati sono ancora di più, ma sono comunque stati sottoposti a quarantena. Chi è sospettato di aver contratto il virus e gli altri sono comunque ricoverati in apposite strutture, quali gli ospedali e sono comunque monitorati da equipe esperte atti a fare tutto il loro meglio, il loro dovere affinché queste persone ritornino alle loro case, alle loro famiglie, dato che non sono persone avvicinabili, dato che stanno ancora controllando e verificando determinate patologie che possono essere comunque influenti oltre al coronavirus, perché se avete notato sono tutte persone, quelle che decedute, che erano in là con gli anni e che mostravano anche altre patologie che associate poi al coronavirus sono state letali, provocando poi la morte. Bene, oltre a questo, che dire, questa settimana ci sarà la chiusura delle scuole in via preventiva, c'è tanta paura, tanta attenzione verso questo fenomeno che sta allarmando l'Italia e tutto il resto del mondo e si spera che presto si arrivi a un punto, soprattutto da parte dei sanitari, che mettano fine a questa epidemia. Questo per oggi era tutto, se c'è un ulteriore sviluppo o altre notizie e novità in merito, ne farò un breve video, tanto per tenervi aggiornati. Adesso vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Un bacio a tutti!